Per favore, vuole aspettare fuori, brigadiere? Sì, signore. Spero di non disturbare con questa visita improvvisa. Vedo che è l'ora di cena per i pazienti. Non si preoccupi, signor Ministro, nessun disturbo. Buonasera, Giovanotto. Oh, toto, toto, guarda chi c'è, miei cari trughi. Allora, come va la salute, Giovanotto? Bene, Sir. Molto bene. Lei ha ancora bisogno di me, signor Ministro? No, no, non credo, Sir Leslie, grazie infinite. Allora io la lascio. Infermiere? Bene, a quanto pare hai una corsia tutta per te. Certo, Sir. E mi ci sento anche molto solo, Sir, quando mi sveglio con i miei dolori in piena notte. Sì, beh, sono contento che cominci a star meglio. Sono sempre stato in contatto con l'ospedale, naturalmente, e adesso sono venuto di persona a vedere come stai. Ho sofferto i tormenti dell'inferno, Sir. I tormenti dell'inferno. Ah, certo, mi rendo conto che hai avuto una terribile... Oh, guarda, aspetta, aspetta che ti aiuto, eh? Permetti. Grazie, Sir, grazie. Ti posso dire in tutta sincerità che io e il governo di cui faccio parte siamo molto spiacenti, carissimo, spiacentissimi. Purtroppo abbiamo seguito pareri scientifici che sono risultati inesatti. Ma un'inchiesta accerterà le responsabilità dovunque siano. Tu però devi considerarci tuoi amici. Ti abbiamo rimesso a posto con le migliori cure possibili. Non ti abbiamo mai voluto male. Ma c'è chi te ne ha voluto e te ne vuole. Penso che tu sappia di chi parla. C'è della gente che voleva usarti a scopi politici e ti avrebbero anche lasciato morire pur di poter cercare di dare la colpa al governo. Alludo a un certo individuo, un tale che scrive roba sovversiva, il quale chiede a gran voce la tua pelle. Ti pianterebbe un coltello nella schiena, sai? Ma tu ora sei al sicuro da lui. L'abbiamo tolto di mezzo. Ha scoperto che tu gli avevi fatto un torto. Almeno lui crede che gli hai fatto un torto. Si è messo in testa l'idea che tu... tu sia stato responsabile della morte di qualcuno che gli era caro e vicino. Un tipo pericoloso. L'abbiamo tolto di mezzo per il suo bene e anche per il tuo. E adesso dov'è, sir? L'abbiamo visto in un posto dove non ti può fare alcun danno. Perché, vedi, noi li curiamo i tuoi interessi. Noi ci occupiamo di te. E uscendo di qui non avrai pensieri. Pensiamo noi a tutto. Buon impiego, buona paga. Quale impiego e quanta paga? Dovrai avere un lavoro interessante e un salario che tu consideri adeguato. Non solo per il lavoro che svolgerai e come risarcimento per quel che forse hai sofferto, ma anche per tutto l'aiuto che ci dai. Io aiuto voi, sir? Tra amici ci si aiuta. Non è.